È sicuramente un segnale quello che ha voluto lanciare il comune di Pizzoli con gli aggiornamenti covid che vengono riportati nella pagina social del comune in caso di positività di qualche abitante. Da ieri oltre alla consueta grafica con il report della situazione contagio e la distribuzione per fasce d'età viene mostrato anche un grafico con vaccinati con almeno una dose non vaccinati che sono risultati positivi al covid e proprio nell'ultimo aggiornamento nel rispetto comunque della praeva si vengono individuati gli ultimi tre positivi come non vaccinati. Un segnale voluto dal sindaco Gianni Anastasio per ribadire l'importanza della vaccinazione in una storica fase in cui purtroppo l'emergenza sanitaria non può dirsi conclusa e non si può e non si deve ancora abbassare la guardia. Per questo i dati vogliono essere un'ulteriore spinta rispetto agli indecisi che ancora non effettuano la vaccinazione. I numeri sono numeri anche in ospedale la maggior parte dei ricoveri riguardano i non vaccinati. Sono dati oggettivi quindi non facciamo altro che divulgare i fatti così come sono. In realtà lo abbiamo voluto fare anche per dare un segnale importante a chi ancora si ostina a non voler fare il vaccino. È chiaro ormai a tutti, io credo dopo ormai mesi, che chi non si vaccina ovviamente è più vulnerabile sia per quanto riguarda il contagio sia per quanto riguarda la trasmissione di questo contagio ad altri. Quindi quello che abbiamo voluto fare noi è proprio dare un'indicazione in modo tale che magari i più scettici si convincano. Com'è la situazione contagi nel suo comune ad oggi? La situazione è sotto controllo. Come avete potuto constatare dalle nostre informazioni ci sono solo tre contagiati che sono arrivati nell'ultima settimana dopo che eravamo riusciti ad azzerarli. È una situazione normale in linea un po' con quello che succede però non bisogna abbassare la guardia. Per quel che riguarda l'Aquila città la ASLA giudica normali casi giornalieri. Mai come la situazione difficile dello scorso anno insomma, casi che per lo più vengono dalle scuole, da bambini che non sono ancora in età vaccinabile e che poi inevitabilmente coinvolgono il nucleo familiare, tra i positivi nelle scuole cittadine anche qualche insegnante.